Il Consiglio regionale della Campania è stato invitato a prendere parte alla Settimana Europea delle Regioni e delle Città in programma a Bruxelles dall'8 all'11 ottobre, un riconoscimento ottenuto grazie alle buone pratiche di e-government, l'opera di digitalizzazione intrapresa sia nei servizi a favore dei cittadini che all'interno degli uffici del Consiglio, pratiche atte a snellire la burocrazia e a renderla più fruibile ed efficiente, come spiegato nel corso della conferenza stampa di annuncio dell'evento, da Giovanna Donadio, dirigente dell'unità dirigenziale Sistemi Informativi e da Giuseppe Ferretti, direttore tecnico di tali sistemi. Intervenuto il consigliere Antonio Marciano, questore delle finanze del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale della Campania investe due terzi della spesa libera al suo bilancio esattamente sui temi dell'innovazione, che significa Open Data, che significa Google Cloud, che significa Interlegis, che significa dematerializzazione di tutto il percorso legislativo, di tutti gli atti, di tutta la parte documentale del Consiglio regionale della Campania, che significa la Biblioteca del Cogliano e il suo archivio informatico presente sul nostro sito, che significa il nuovo portale e dunque una maggiore accessibilità alle informazioni all'attività del Consiglio regionale. Dunque, per queste pratiche, per queste buone pratiche, l'Europa ci riconosce come esperienza e come riferimento nel sud Europa e porteremo queste attività a Bruxelles, ovviamente convinti che sul terreno della e-democracy, dell'e-government, dell'e-governance, dovremo fare ancora passi importanti, perché i cittadini e istituzioni si ritrovino quotidianamente, perché i cittadini possano verificare le attività dentro le istituzioni pubbliche e perché i cittadini possano concorrere alla decisione del legislatore politico.